Siamo qui in una nuova puntata speciale di MarsilTV Tutto si distrugge e niente di greco Il nostro commuttore è per oggi Valerio Lui che sta a trasformare un... Insomma... Vabbè Allora ragazzi Oggi siamo nella nostra terrazza Di primi video Insomma, vabbè Siamo in una terrazza Di luvia Guardate, tutto spartito di luvia Di luvioso Capito? Va bene Se non lo vedete di luvia, vabbè Noi lo vediamo, lui no Bia di voi E per oggi Abbiamo invertito anche i ruoli Vabbè Perché... Sì, ok? Allora ragazzi Oggi costruiremo una cosa speciale Specialissima anzi Una katana ninja No, katana samurai Questo lo devo dire io Una katana samurai Che costruiremo con un bastone Ferro Cioè, pezzi da sfidare con me Questa altra cosa Due fili blu di un essere blu Blu, perché se non ce l'ho blu Insomma Che spuccio e spuccio Dobbiamo unire i due coci Girare E poi fare un nodo Ok, questo se lo voglio vendere più carino Ma io no Lega bene però Ok Io vedi Vedete, ecco perché lo faccio io Perché io sono il migliore Ok, ragazzi Ehm Ok, un po' Ehm Se spesso Insomma Fio Giriamo E facciamo Il nostro Solito Tutto che lui lo fa Vediamo il diluvio Ah beh Insomma Vedi Vedi No? Diluvia Una volta fatto Tutto Sto caccata Sto caccata Il suo accento E lo E lo Stringiamo Poi dobbiamo prendere Spucci Spuaccis Quando Fai Fertico Ru Aperai E spucci Cosa sta parlando Ci chiede Poi Poi Dentro Ok Ficcimata Poi Poi Ok Ok Aiuto Adesso Adesso Dove è stato Perché non ti andrei parli No No Cazzo No 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 Ma dove cazzo è Là C'è solo bianco Che puttana Che puttana E' una vita Tranquillo La catena è pronta Ma porca puttana E' effettivo La tua vita E' tutta Lucinita Oh no E' tutta lucinita Vabbè Faccio sempre Magari una paura O metto Ok Allora Allora Ragazzi Per questa visita E' finita tutto Facciamo ancora Le scuse Per I video Che ho Guardi Tre scritti In meno Che non sappiamo Il motivo Ma sono tornati Per fortuna Allora Ragazzi Si Ci hanno levato I video E ci hanno levato Anche un po' Di scritti Però Non si sa come Mai sono tornati Va bene Chiediamo scusa Anche a Non mi ricordo Francesco Gli ops Quelli Ma chiediamo scusa E vorremmo Chiedere scusa anche voi Per non aver fatto video Insomma Ragazzi Nel prossimo video Si prevede Che sarà per Martedì O forse anche giovedì Vabbè Sì Voi non lo sapete Vabbè Forse per il 4 6 febbraio Non so Vabbè Insomma Vorremmo dirvi Qualcosa Infatti ve lo diciamo Qualcosa Arrivederci a tutti Sì Aaaaaah!